Salve a tutti, oggi a pagina 314 del nostro libro di letteratura parliamo del futurismo. Futurismo significa art del futuro e fu un movimento artistico letterario d'avanguardia nato in Italia, fondato da Filippo Tommaso Marinetti, il quale pubblicò il Manifesto del futurismo su un giornale quotidiano francese di nome Le Figaro nel 1909. Abbiamo detto già che il fondatore e caposcuola di questo gruppo, il futurismo, si chiamava Marinetti. Questo gruppo è successivo al crepuscolarismo e a differenza di questo che abbiamo già studiato sostiene la necessità di un cambiamento, cioè di un rinnovamento dell'arte che la renda capace e di esprimere in nuove forme il dinamismo della società contemporanea, con un assoluto disprezzo di tutti gli schemi tradizionali, precedenti, utilizzati. Il futurismo dunque proclama la rottura completa col passato, per esempio la distruzione delle biblioteche, dei musei e delle accademie e la liberazione dell'Italia da professori, archeologi anticoari, come vedete un movimento critico, provocatorio direi io, e al passato però contrappone la moderna civiltà della macchina, possiamo dire della tecnologia in questo periodo, e anche la bellezza e l'ebrizza della velocità, come vedremo. Il futurismo è soprattutto affascinato dal progresso tecnologico e questi autori futuristi esaltano il modo moderno della società in tutte le sue espressioni, la velocità, la civiltà delle macchine, l'industrializzazione e la guerra, che definiscono sola igiene del mondo. Perché? Perché spazza via la parte debole dell'umanità e selezioni forti da destinare a un'esistenza sempre più dinamica e aggressiva. Insomma, come potete vedere io lo definisco un movimento critico, sicuramente innovatore per un certo punto di vista, naturalmente, insomma, il fatto di considerare la guerra come unica pulizia, igiene del mondo, è un po' una provocazione molto grande. sul piano espressivo questo movimento influisce in tante arti, non solo la letteratura, ma anche il teatro, la pittura, la scultura, l'architettura e la musica. Tanto è vero che lo potete collegare facilmente, per questi motivi, in alcuni percorsi d'esame che porterete. Sul piano espressivo i futuristi danno vita a nuove forme di scrittura. Aboliscono la sintassi, gli aggettivi, gli avverbi e la punteggiatura, mentre i verbi sono usati solo all'infinito. Esaltano la violenza, la violenza della guerra e del nazionalismo. Porteranno il movimento a sostenere l'intervento nella prima guerra mondiale e a fiancheggiare il fascismo nel dopoguerra. Tra gli esponenti letterari più importanti e famosi del futurismo, oltre al fondatore Marinetti, ricordiamo Aldo Palezzeschi, Luciano Folgore e Ardengo Soffici. Abbiamo già detto prima, insomma, che i futuristi fecero un impiego di tali idee per tutti gli usi, soprattutto in funzione antipassatista, cioè contro il passato e antiborghese. Questo spiega la simpatia che il futurismo inizialmente trovò presso la classe operaia e la versione della borghesia. In Italia invece il futurismo andò sempre più orientandosi verso destra, in senso nazionalista, come abbiamo visto, e dunque interventista, fino a sfociare dopo la guerra nel fascismo e a diventare l'arte ufficiale del regime. Ecco, questo è un altro collegamento che potete fare nei vostri percorsi d'esame. Per quanto riguarda le forme letterarie, insomma, l'idea futurista parte dall'idea che bisogna liberare le parole, liberare le parole dalla prigione del periodo, pensate, latino. Sono espressioni di questi poeti che in qualche modo sono state ritrovate all'interno del suo manifesto, un manifesto appunto firmato da Marinetti. E dunque bisogna distruggere, come ho già detto in passato, la sintassi tradizionale. Il verbo, lo ripeto, viene utilizzato all'infinito, viene abolito l'aggettivo, l'avverbio, la punteggiatura che rallentano il discorso e anche bisogna abolire la metrica. Invece bisogna utilizzare, secondo i futuristi, l'analogia al posto della metafora, in grado di collegare cose apparentemente lontane, diverse e in stili fra loro, ma ravvicinate dall'intuizione e la poesia deve cantare l'amore del popolo, il coraggio, l'audacia, la ribellione, la macchina, la velocità, la città, le industrie, secondo il gergo nazionalista.